Ciao a tutti, queste slide mi sono state molto utili per superare l'esame per l'agente immobiliare, soprattutto per la parte orale. Spero davvero siano utili anche voi e se le preferite in formato di testo ho creato un libricino, lo trovate su Amazon e vi lascio un link in un commento. In questo video parleremo della sezione estimo. Cos'è l'estimo? È una disciplina che utilizzando scienze quali l'economia, la statistica e il diritto ha lo scopo di esprimere un giudizio di natura economica, il giudizio di stima, su beni, progetti ecc. Il giudizio di stima deve avere natura oggettiva. I rami dell'estimo sono estimo generale ed estimo speciale. L'estimo generale studia la teoria e le metodologie generali, mentre l'estimo speciale si divide in civile o urbano che si occupa di fabbricati civili e aree fabbricabili, rurale o agrario che si occupa di terreni agricoli e impianti, estimo forestale si occupa dei boschi, estimo catastale è l'estimo che serve per finalità fiscali per terreni fabbricati, estimo industriale che valuta aziende industriali e commerciali e infine l'estimo legale. Si tratta di stime la cui tecnica è disciplinata dalla legge. I criteri di stima sono importantissimi. Li vediamo sono il valore di mercato, quindi stima a valore di mercato. Si può fare se esiste un mercato di beni simili a quello che vogliamo stimare. Stima a valore di costo. Si fa la stima a valore di costo se non c'è solitamente un mercato di beni simili a quello che vogliamo stimare, quindi non si può utilizzare il valore di mercato, però si può valutare quanto costerebbe costruire il bene che vogliamo valutare ex novo. Stima a valore di trasformazione, sempre se non esiste un mercato di beni simili e se il bene può essere trasformato in un altro di cui sia noto il mercato. Stima a valore complementare, se il bene può essere una parte, considerato una parte scendibile di un altro bene di cui sia noto il mercato. Stima a valore di surrogazione, se il bene che vogliamo stimare può sostituirne un altro di cui conosciamo il valore di mercato. E infine stima a valore di capitalizzazione, cioè in base alla capacità del bene che vogliamo stimare di produrre un reddito. I criteri su cui si fonda l'estimo sono due molto importanti, quello della comparazione e quello dell'ordinarietà, quindi la comparazione tra il bene oggetto di stima e altri beni con caratteristiche simili e prezzi noti, come abbiamo visto nella slide precedente nei criteri di stima, e poi l'ordinarietà, cioè la valutazione si riferisce alle circostanze che possono verificarsi con maggior frequenza. Il metodo di stima invece cos'è? È il processo logico con il quale il perito giunge alla formulazione del giudizio di valore. Il metodo di stima è unico e consiste nel confronto del bene da stimare con altri beni uguali o analoghi, dei quali siano noti o accertabili i prezzi di mercato o i costi di produzione. Come si tiene conto però delle caratteristiche specifiche di un bene, quindi abbiamo visto, facciamo il confronto con beni simili nella slide precedente, quindi il confronto con beni simili, però ovviamente ogni bene ha delle caratteristiche specifiche. Come si tiene conto nella stima di questi valori? Con i comodi e gli scomodi e con le aggiunte e le detrazioni. Allora, cosa sono i comodi e scomodi? Sono qualità del bene oggetto di stima che ne aumentano o diminuiscono il valore ma non incidono sulla redditività. Ad esempio la panoramicità di un immobile, la vicinanza ai mezzi pubblici, eccetera. Cioè è difficilmente valutabile in modo oggettivo il cambiamento della redditività per la presenza appunto di queste qualità. Mentre le aggiunte e le detrazioni sono qualità che possono essere valutate economicamente in modo autonomo. Ad esempio gli accessori di pregio di un determinato edificio che mette questo edificio al di sopra della media degli edifici simili. Procedimenti di stima. La stima può essere diretta o sintetica oppure indiretta o analitica. Quindi si ha la stima diretta quando conosciamo i prezzi di transazioni relativi a beni analoghi. Mentre se non conosciamo questi prezzi, quindi non c'è un mercato attivo, la stima indiretta, possiamo usare la stima indiretta, per cui calcoliamo il valore del bene sulla base della valutazione di singoli dati elementari riferiti al bene che vogliamo stimare. Quali sono i procedimenti metodologici operativi della stima diretta o sintetica? Abbiamo quattro procedimenti metodologici operativi che sono la stima sintetica parametrica, la stima per valori tipici, la stima a impressione o a vista e la stima storica. Parliamo adesso della stima sintetica parametrica. Quindi per poter effettuare questo tipo di stima non basta conoscere il prezzo di un bene, ma dobbiamo anche conoscere le caratteristiche tecniche del bene stesso individuabili attraverso specifici parametri tecnici. Solitamente la stima sintetica parametrica viene fatta con un solo parametro e si chiama stima monoparametrica. Quindi il valore del bene è dato dalla somma dei valori di mercato di beni simili, diviso la somma dei valori dei parametri di beni simili moltiplicato per il valore del parametro scelto per il bene oggetto di stima. Quando invece abbiamo più parametri parliamo di stime multiparametriche. Quindi in questo caso il valore del bene è funzione dei parametri. Quindi V, valore del bene, è funzione di parametro 1, parametro 2, parametro 3, eccetera. Passiamo adesso alla stima per valori tipici. Solitamente si usa per beni complessi, ad esempio un'azienda agricola con diversi appezzamenti di terreno, ognuno con culture diverse e simili, oppure un fabbricato, un grande fabbricato, che ha magari al piano terreno dei negozi e degli uffici, al piano superiore degli appartamenti e magari nel sotterraneo dei parcheggi. Quindi il valore del bene, ma lo vedremo più avanti nei casi specifici, è dato dalla somma dei valori dei singoli beni. Quindi somma dei valori degli appartamenti, dei negozi e degli uffici, eccetera. Stima vista è quella per cui il perito esprime la stima semplicemente osservando il bene. Ovviamente il perito deve essere un profondo conoscitore della tipologia dei beni che sta stimando. Infine abbiamo la stima storica, dove il valore del bene è calcolato come attualizzazione alla data della stima del prezzo di compravendita del bene stesso, del prezzo storico di compravendita. Le caratteristiche del bene però devono essere le stesse di quando è stato acquistato. Quando si usa la stima storica? Quando il mercato non offre indicazioni sufficienti in termini di prezzi per beni simili. Altrimenti useremmo la stima a valori di mercato. Parliamo adesso più nel dettaglio del procedimento estimativo diretto a valore di mercato. Allora, il valore di mercato è la quantità di moneta che può sostituire un bene, in altre parole, come tutti sappiamo, il prezzo di un determinato bene. Quindi come funziona questo procedimento estimativo? Partiamo con la rilevazione di prezzi di beni simili direttamente sul mercato. Poi costruiamo una scala dei valori, cioè mettiamo questo range di prezzi in una scala dal più basso al più alto. Poi confrontiamo il bene da stimare con i beni individuati a seconda delle diverse caratteristiche e a quel punto possiamo collocare il bene nel punto giusto della scala dei valori. A quel punto possiamo determinarne il valore, che è il prezzo medio unitario dei beni preso a raffronto per il parametro del bene, oggetto di stima. Lo vedremo più in dettaglio questa determinazione del valore. Però questo valore non è un valore preciso, perché dobbiamo valutare anche i comodi e gli scomodi, quindi aggiungendo e detraendo valore vedremo successivamente come fare, e infine anche valutare le aggiunte e le detrazioni per poi arrivare finalmente alla stima a valore di mercato del bene appunto che vogliamo stimare. Mentre il procedimento estimativo indiretto del valore di mercato si usa, come abbiamo visto, se sul mercato non si sono verificati scambi recenti di beni simili. E, questo è molto importante, si può fare il procedimento estimativo indiretto solo se il bene genera un reddito. E questo perché la stima si fa sulla base della capitalizzazione del reddito anno del bene che vogliamo stimare. Come calcoliamo il saggio di capitalizzazione? Allora, può essere indicato dal mercato, ad esempio il tasso di rendimento di beni simili al nostro bene che vogliamo stimare. Oppure il saggio di tasso di rendimento per beni diversi ma appartenenti allo stesso settore. E poi qui dobbiamo fare aggiunte e detrazioni. Quindi calcolo del valore del bene, abbiamo il saggio di capitalizzazione, che è, in altre parole, la sommatoria dei redditi netti dei beni diviso la sommatoria dei valori dei beni. Quindi una volta che abbiamo il saggio di capitalizzazione possiamo calcolare il valore del bene ipotizzando un numero illimitato di redditi costanti. E si calcola così. Reddito netto annuo del bene diviso saggio di capitalizzazione ci dà il valore del bene. Se invece abbiamo un numero limitato di redditi che possono essere costanti o variabili, ecco questo è un procedimento abbastanza complicato. Se proprio volete andate a vedere la formula nel libro, ma insomma non ho visto troppe domande né allo scritto né all'orale su questo calcolo. Stima a valore di costo. Allora per fare la stima a valore di costo bisogna determinare il probabile valore di costo di produzione del bene che vogliamo stimare. Quindi si usa quando non esiste un mercato attivo da cui ricavare prezzi di compra-vendita per beni simili. Stima a valore di costo. Procedimento estimativo diretto. E' semplicemente la somma dei costi che l'imprenditore dovrebbe sostenere per replicare il bene. Secondo questa formula che sembra complicatissima ma non lo è troppo. Quindi il valore del nostro bene dato da questa formula, alcuni di questi parametri vi li ho indicati qui e sono SV, ad esempio, spese varie, imp sono le imposte, sa sono i salari, st sono gli stipendi, bf è il beneficio fondiario, i gli interessi e k è un coefficiente di depreciamento. Perché questo? Perché questa stima a valore di costo sono i costi per un immobile che poi sarebbe nuovo. Invece il nostro è un immobile non nuovo, quindi dobbiamo usare un coefficiente di depreciamento. Quindi costi molto semplici, costi per imposte, costi per salari, costi per stipendi, costi per interessi, spese varie, eccetera. Abbiamo citato bf, beneficio fondiario. Cos'è il beneficio fondiario? E il compenso per l'imprenditore che ha immesso nel ciclo produttivo beni immobili. Questo era il procedimento estimativo diretto. Parliamo adesso del procedimento estimativo indiretto sempre a valore di costo. Allora la stima si ottiene moltiplicando i singoli elementi costitutivi del bene, ad esempio metri quadri di muratura, metri quadri di solaio, eccetera, per il valore di questi elementi costitutivi e poi facendo la sommatoria dei valori ottenuti. Parliamo adesso della stima a valore di trasformazione, detto anche valore potenziale. Si usa per beni per cui allo stato attuale non esistono beni simili sul mercato per cui rilevare i prezzi. E questa è sempre una costante che vedremo nell'estimo. Quindi quando normalmente si usa la stima a valore di mercato. Però se non esistono beni simili sul mercato allora si possono utilizzare diverse stime. In questo caso la stima a valore di trasformazione, beni che, appunto, nonostante non esistano beni simili, possono essere trasformati in beni per cui è possibile rilevare i prezzi sul mercato. Quindi trasformarli. Quindi valore potenziale, il potenziale di un edificio. Abbiamo sempre a valore di trasformazione il metodo diretto, cioè il valore del bene dopo la trasformazione meno il costo sostenuto per la trasformazione, molto intuitivo. E poi il metodo indiretto, cioè sempre il valore del bene dopo la trasformazione meno la sommatoria dei costi da sostenere per trasformare il singolo elemento costitutivo del nostro bene tenendo conto del costo del capitale per gli anni necessari alla trasformazione. Stima a valore complementare quando non esistono sul mercato beni simili, ma il nostro bene può essere complementare a un altro bene per cui esiste invece un mercato attivo. Abbiamo il metodo diretto e il metodo indiretto. Col metodo diretto il valore del bene oggetto di stima, e impariamo questo termine, si dice porzione del compendio, è uguale al valore complessivo del compendio meno il valore del compendio privo del bene oggetto di stima. Il metodo indiretto, quindi abbiamo il valore del bene oggetto di stima, quello che dobbiamo trovare, sempre porzione del compendio, che è uguale alla redditività netta del compendio meno la redditività del compendio senza il bene che dobbiamo stimare. Stima a valore di surrogazione. Sempre non esistono sul mercato beni simili, ma il nostro bene può essere surrogato, cioè sostituito da un altro bene con le stesse funzioni. Ad esempio, se dobbiamo stimare il valore di una macchina agricola vecchia, lo possiamo ricavare dal valore di una macchina che è disponibile sul mercato che fa esattamente lo stesso lavoro. Anche per la stima a valore di surrogazione abbiamo il metodo diretto e il metodo indiretto. Allora, col metodo diretto il valore del bene, la stimare che noi stimiamo, è funzione del valore del bene che lo può surrogare, ovvero del suo costo di produzione. Quindi, ripetiamo, il valore del bene è funzione del costo di produzione del bene che lo può surrogare, cioè sostituire. Il metodo indiretto è esattamente come sopra, quello che abbiamo appena detto, però, quando facciamo la stima del valore del bene che lo può sostituire, questa stima è analitica e non sintetica. Stima a valore di capitalizzazione. Il valore del bene è dato dalla sommatoria dei redditi futuri che il bene può produrre. Parliamo adesso, andiamo adesso un po' più nel dettaglio, quindi parliamo di estimo rurale. Gli elementi costituenti l'azienda agraria sono il capitale fondiario, il capitale agrario, e il lavoro, cioè la mano d'opera. Iniziamo a definire bene il capitale fondiario e la terra, cioè la sua naturale fertilità più gli impianti e i fabbricati. Quindi il capitale fondiario è immobile. Terra, impianti e fabbricati. Cos'è il beneficio fondiario? L'abbiamo già visto, questa è una definizione un po' più articolata, è il prezzo d'uso del capitale fondiario, cioè della terra, degli impianti e dei fabbricati. In altre parole, quanto della produzione compete al proprietario del fondo per la concessione dell'uso del fondo. Il capitale agrario, quindi nelle slide precedenti abbiamo visto capitale fondiario, l'abbiamo definito adesso, adesso parliamo di capitale agrario, che è detto anche capitale di esercizio. È costituito dalle scorte, che sono immobili, e dal capitale di anticipazione, cioè che è mobile. Le scorte possono essere vive, cioè il bestiame, morte, cioè macchine e attrezzi, e morte circolanti, cioè mangimi, concimi. Queste erano le scorte. Per il capitale agrario, alle scorte bisogna aggiungere il capitale di anticipazione, detto anche capitale di esercizio, cioè il denaro che serve per l'esercizio dell'impresa. Quindi scorte, bestiame, macchine, attrezzi, mangimi e concimi, più il denaro che serve per l'esercizio dell'impresa agricola. Tipi di stime a seconda della finalità. Quindi la stima a valore di mercato si usa solitamente per la compravendita o per casi di successione, eredità. La stima a valore di trasformazione si usa nel caso ci siano in programma miglioramenti del fondo o anche nel caso di vendita, come abbiamo visto, se non esiste un mercato attivo per fondi simili, il valore complementare in caso di valutazione di componenti di un'azienda, il valore di surrogazione quando nell'azienda devono essere inseriti i prodotti agricoli privi di mercato, e infine il costo di riproduzione quando si devono valutare dei fabbricati rurali. per ogni stima abbiamo due fattori molto importanti che sono i fattori estrinseci e i fattori intrinseci. I fattori estrinseci sono i fattori ambientali della zona, quindi non sono direttamente collegabili al fondo, che sono ad esempio la salubrità dell'aria, il clima della zona, i caratteri idrologici, i caratteri demografici e anche i caratteri economici. Poi abbiamo quelli intrinseci, cioè che sono specifici del fondo, come la grandezza, ovviamente, del fondo stesso, quindi la superficie in metri quadri, la forma del fondo, che lo rende più o meno facilmente coltivabile, la fertilità, la presenza di piante, di fabbricati utili all'attività agricola, di vincoli legali, quali servitù, eccetera, e simili. La stima, e stiamo sempre parlando di estimo rurale, può essere a cancello aperto, quindi stimiamo solo il fondo rustico, in pratica il capitale fondiario, oppure a cancello chiuso, cioè stimiamo l'intera azienda con scorte, macchinari, eccetera. I procedimenti di stima, sempre nell'estimo rurale, possono essere il procedimento diretto e il procedimento indiretto, quindi nel procedimento diretto abbiamo la stima sintetica parametrica, la stima per valori tipici, la stima vista, mentre quello indiretto abbiamo la capitalizzazione del reddito anno. Stima sintetica monoparametrica, sempre nell'estimo rurale, quindi quando il fondo ha un'unica qualità di coltura, e utilizziamo lo stesso calcolo fatto in precedenza, cioè il valore del fondo è uguale alla sommatoria dei prezzi di mercato e dei fondi presi a confronto, diviso la sommatoria del valore dei parametri dei fondi presi sempre a confronto, moltiplicato per il valore del parametro del fondo oggetto di stima. Abbiamo parlato di parametri, quindi questi parametri possono essere economici o fisici, quindi i parametri economici sono, ad esempio, il beneficio fondiario, il canone di affitto, la produzione lorda vendibile, il reddito dominicale o il reddito netto. Mentre i parametri fisici solitamente si usa, per i parametri fisici si usa solitamente la superaffice fondiaria. Ovviamente più è grande un fondo, maggiore sarà il suo valore. Però, se un'azienda è policolturale, cioè ha molte culture diverse, il valore non è influenzato soltanto dalla grandezza del fondo, ma anche dalla qualità delle diverse culture, quindi questa stima non è attendibile e bisogna utilizzarne un'altra. Questa stima che era, come abbiamo detto, la stima sintetica, monoparametrica, che abbiamo visto in questa slide. Quindi ne utilizzeremo un'altra. Poi, anche nell'estimo agrario, dobbiamo valutare le caratteristiche particolari, quindi comodi e scomodi, che come sappiamo non sono di per sé valutabili economicamente, ma comunque aggiungono valore al fondo, e poi aggiunte e detrazioni, aggiungono, tolgono valore al fondo, scusate, e poi aggiunte e detrazioni, che sono invece valutabili separatamente. Le aggiunte sono, per esempio, i maggiori fabbricati rispetto alla media, maggiori impianti, maggiori servituattive, maggiori scorte, e le detrazioni sono minori fabbricati, impianti, scorte, servitu passive, eccetera. Poi abbiamo la stima per valori tipici. Utilizziamo questa stima quando l'azienda agricola è divisa in diversi settori culturali. Quindi, per effettuare la stima completa dell'azienda agricola, si ricercano sul mercato aziende monocolturali per ogni cultura presente nell'azienda pluriculturale che dobbiamo stimare. E consideriamo di queste aziende i prezzi e i parametri tecnici. Poi il valore della nostra azienda sarà dato dalla somma dei valori dei singoli appezzamenti a diversa cultura, cioè il prezzo della cultura per ovviamente la superficie che abbiamo nel nostro fondo da valutare. Poi abbiamo la stima a vista sempre nell'estimo agrario che è solitamente applicata per bestiame o macchine, cioè per beni mobili. Il procedimento indiretto è invece quello della capitalizzazione del reddito medioanno, cioè che è il compenso che spetta il capitalista proprietario del fondo. Qui però bisogna distinguere tra fondi condotti in economia dove il proprietario è anche imprenditore nell'azienda agricola e fondi condotti in affitto dove il proprietario è diverso dall'imprenditore, cioè il proprietario dà in affitto il fondo a un imprenditore agricolo. Andiamo più nel dettaglio, quindi l'azienda condotta in economia. Il beneficio fondiario su cui appunto si calcola con il procedimento indiretto la capitalizzazione del reddito medioanno, quindi il beneficio fondiario è la produzione lorda vendibile meno tutta una serie di costi che sono i costi del personale, le imposte, il beneficio fondiario medioanno, gli interessi, eccetera. Il risultato è un tornaconto attivo o passivo. Quindi il reddito fondiario è uguale al beneficio fondiario più il tornaconto dell'imprenditore eventuale. E' sempre il reddito fondiario e il compenso spettante all'imprenditore proprietario del fondo per le aziende condotte in economia. Quindi come troviamo il saggio di capitalizzazione? Lo troviamo facendo la sommatoria dei benefici fondiali dei fondi presi a confronto diviso la sommatoria dei prezzi di mercato dei singoli fondi. Quindi il valore finale dell'azienda è uguale al beneficio fondiario diviso il saggio di capitalizzazione. Mentre per l'azienda condotta in affitto il beneficio fondiario è uguale al canone d'affitto meno le spese di competenza del proprietario. Quindi il valore finale dell'azienda sarà il beneficio fondiario diviso il saggio di capitalizzazione. Un particolare importante il canone d'affitto deve essere quello di libero mercato e non un canone legale o un canone calcolato per fondi simili. Parliamo adesso della stima di piccoli appezzamenti a destinazione agricola. Quindi si intende per piccolo appezzamento un appezzamento di terra un fondo che però non consente per le sue dimensioni ridotte lo sviluppo di un'azienda agricola ben strutturata. Se il fondo è coltivato abbiamo la stima a valore di mercato se invece è annesso a un altro fondo la stima più corretta è quella a valore complementare. Mentre per la stima di piccoli appezzamenti a destinazione agricola abbiamo sempre due criteri quindi il primo è come anche per quelli a destinazione agricola prezzi di mercato quindi confronto con aree simili per cui esistono prezzi mentre il secondo criterio è quello non del valore complementare ma del valore di trasformazione solo però se il potenziale acquirente possiede già un fondo adiacente. Poi siccome si tratta di terreni di fondi a destinazione extra agricola sebbene piccoli si deve tenere conto del coefficiente di abitabilità dello sviluppo della rete stradale della salubrità della zona e criteri simili. Stima dei frutti pendenti Allora cosa sono i frutti pendenti? Sono i prodotti agricoli ancora sul campo in attesa di essere raccolti. Si possono calcolare col metodo dei costi sostenuti o col metodo dei redditi futuri. Quindi il metodo dei costi sostenuti calcoliamo i costi sostenuti fino al momento della stima e sottraiamo eventuali frutti che abbiamo raccolto. Mentre col metodo dei redditi futuri calcoliamo il valore il valore totale di tutti i prodotti ottenibili una volta che arrivano a maturazione e sottraiamo i costi che ancora dobbiamo sostenere prima della raccolta. E questo è tutto per l'estimo rurale. Passiamo adesso all'estimo civile cioè la stima dei fabbricati. Allora prima di iniziare il procedimento che poi porterà alla stima il perito deve valutare i fattori estrinseci e i fattori intrinseci. Come sappiamo i fattori estrinseci sono ad esempio il clima della zona i servizi le offerte di lavoro i tassi di criminalità la presenza di parcheggi eccetera. Mentre i fattori intrinseci sono quelli particolari specifici del fabbricato quindi il tipo di fabbricato le finiture se sono sopra la media la luminosità se sopra la media per la zona l'esposizione se sono presenti servitu passive e lo stato di conservazione del fabbricato e simili. Poi a seconda di diversi aspetti economici abbiamo diversi tipi di stima quindi come abbiamo già visto la stima valore di mercato si può applicare ai fini della compravendita successione ipoteche e mutui stima valore di costo di riproduzione se non esiste un mercato proprio per il bene che vogliamo stimare stima valore di trasformazione in caso di vendita o anche ristrutturazioni edilizie e poi il valore di surrogazione cioè quando dobbiamo valutare porzioni di fabbricato senza un mercato autonomo la stima diretta a valore di mercato può essere parametrica per valori tipici oppure a vista quindi un perito molto esperto conta i vani calcola aggiunte e detrazioni comodi e scomodi e quindi arriva a una stima dell'immobile quindi analizziamo più in dettaglio la stima parametrica diretta a valore di mercato allora si usa solitamente quando abbiamo un'unica unità immobiliare oppure diverse unità immobiliari ma con medesima destinazione funzionale ad esempio solo uffici quindi un immobile composto di soli uffici o soli alloggi il valore del fabbricato lo calcoliamo sempre con la stessa formula che abbiamo visto prima per la stima a valore di mercato generica quindi la somma dei prezzi dei singoli fabbricati presi a confronto diviso la somma del valore dei parametri dei fabbricati presi a confronto del parametro che abbiamo utilizzato moltiplicato per il valore del parametro dell'unità immobiliare oggetto di stima cosa sono questi parametri più o meno lo sappiamo già possono essere i parametri economici quindi ad esempio il canone d'affitto o la rendita catastale dell'immobile oppure parametri tecnici fisici come la superficie poi dobbiamo calcolare i comodi e gli scomodi quindi conosciamo già bene questi questi termini sono le caratteristiche particolari non valutabili quindi abbiamo siccome non sono valutabili nello specifico abbiamo un aumento una diminuzione del valore del valore di stima in forma percentuale che ne so un comodo la somma di tutti i comodi può che ne so aumentare il valore del 2% del 5% eccetera oppure se sono più gli scomodi che i comodi il valore può diminuire di nuovo che ne so dell'1 del 5% poi abbiamo aggiunte le trazioni che invece possiamo valutare singolarmente economicamente le aggiunte sono ad esempio un giardino arredato eccellenti rifiniture quindi molto sopra la media o redditi transitori per appunto quell'unità immobiliare le detrazioni sono invece ad esempio le spese straordinarie servitupassive ipoteche presenti sull'immobile minori redditi transitori rispetto all'ordinario la stima indiretta invece del valore di mercato come sappiamo la stima indiretta si ottiene attraverso la capitalizzazione del reddito netto anno quindi reddito netto fratto tasso di interesse cos'è il reddito netto anno è il canone d'affitto anno meno gli oneri a capo della proprietà poi sempre sui fabbricati possiamo avere la stima per valori tipici quindi per fabbricati che hanno una diversa destinazione funzionale delle varie parti dell'immobile ad esempio una palazzina urbana che ha nei negozi al piano terna ed è questo l'esempio che ho fatto già prima quindi negozi uffici a piano terra autorimessa nel sotterraneo e alloggi ai piani superiori il valore del fabbricato appunto per valori tipici è uguale alla somma dei valori delle singole parti a diversa destinazione funzionale quindi prezzo unitario moltiplicato per la superficie o per i vani stima diretta al valore di costo si utilizza solitamente per un fabbricato da costruire oppure per un fabbricato anche esistente ma per cui non esiste un mercato oppure per finalità estimative cioè la stima dei danni come si fa la stima al valore di costo allora si individuano dei fabbricati simili si sceglie il parametro tecnico quindi solitamente la superficie complessiva e poi il valore del costo di ricostruzione è dato dalla sommatoria dei costi di costruzione dei fabbricati presi a confronto diviso la sommatoria dei valori dei parametri di consistenza presi a confronto moltiplicato per il valore del parametro di consistenza del bene da stimare quindi la formula è sempre la stessa il valore trovato però è quello di un fabbricato nuovo come abbiamo già visto bisogna quindi apportare dei depreciamenti moltiplicando il valore trovato per un valore compreso tra 0 e 1 stima indiretta invece al valore di costo è per un fabbricato da costruire per un fabbricato esistente praticamente come prima quindi se non esiste un mercato per finalità estimativa stime per danni oppure indiretta può essere anche quando il fabbricato è così raro e particolare che non si può confrontare con altri immobili già realizzati quindi come si fa questa stima indiretta al valore di costo allora si fa il computometrico di tutti i lavori da effettuare per realizzare il fabbricato poi si individuano i costi unitari da preziari e simili e la stima è la seguente quindi il valore della categoria di lavoro 1 ad esempio per la quantità poi il valore della categoria del lavoro 2 per la quantità di quel lavoro eccetera eccetera per moltiplicato per il coefficiente di depreciamento stima delle aree edificabili dipende dagli stessi fattori estrinseci dei fabbricati quindi clima servizi offerte di lavoro nella zona criminalità parcheggi eccetera ricordiamo questi non sono aree non sono fabbricati ma aree edificabili però i fattori estrinseci sono gli stessi dei fabbricati mentre quelli intrinseci ovviamente sono specifici ad esempio abbiamo l'indice di edificabilità quindi in parole povere quanto posso costruire a parità di metri quadrati l'estensione dell'area fabbricabile la tipologia dei fabbricati che si possono costruire la comodità di accesso alle strade la giacitura ad esempio se pianeggiante collinare se esistono servitù attive o passive e simili aspetti economici sempre stiamo parlando di terreni edificabili a seconda dei diversi aspetti economici la stima dei terreni edificabili può essere a valore di mercato cioè per fine di compravendita successione ipoteche e mutui esattamente come i fabbricati a valore di trasformazione quindi per vendita o ristrutturazioni edilizie e a valore complementare per valutare porzioni di aree quindi di terreni per cui non sia possibile un'edificabilità autonoma stima a valore di mercato utilizziamo solo il procedimento diretto per i terreni edificabili in quanto appunto i terreni edificabili di per sé non sono suscettibili di fornire un reddito stesse stime dei fabbricati quindi abbiamo la sintetica parametrica quella per valori tipici e la stima storica quindi stima a valore di trasformazione sempre procedimento diretto perché avviene tra valori di mercato la stima a valore di trasformazione è data dal valore del fabbricato realizzabile sull'area che vogliamo stimare meno i costi da sostenere per la costruzione del fabbricato adesso passiamo alla stima di un fabbricato gravato da usufrutto uso o abitazione allora un veloce chiarimento su questi termini che conosciamo già dalle lezioni di diritto allora l'usufrutto è un diritto reale di godimento di cosa altrui l'uso è un diritto reale limitato di godimento di cosa altrui e l'abitazione è il diritto di abitare in caso altrui anche se un diritto reale il valore attuale dell'immobile gravato da usufrutto è uguale al probabile prezzo di mercato al momento dell'accessazione dell'usufrutto meno il cumulo dei redditi futuri netti fino alla liberazione dell'immobile questo cumulo è attualizzato cioè si usa un tasso di interesse parliamo adesso dell'espropriazione per pubblico interesse quindi in caso di espropriazione di aree edificabili al proprietario dell'area viene data un'indennità pari al valore venale cioè al prezzo dell'immobile in circostanze di mercato tra virgolette normali ridotta però del 25% se l'area è destinata a interventi di riforma economico-sociale se l'espropriazione invece è di aree edificate si viene concesso il valore venale per aree agricole l'indenità è calcolata tenendo conto delle colture se non è coltivato si usa il tipo di coltura presente nella zona e poi abbiamo invece l'occupazione temporanea di suolo appartenente a un qualunque soggetto cioè è un'occupazione provvisoria di un terreno o un manufatto per poter effettuare lavori di pubblica utilità passiamo adesso alle servitù prediali sono limitazioni al godimento imposte su un fondo servente per il beneficio di un altro fondo dominante queste limitazioni si chiamano più correttamente pesi quindi sono dei pesi imposti su un fondo il fondo servente per il beneficio di un altro fondo quello dominante le servitù prediali sono un diritto reale cioè riferito al fondo il predium e non al proprietario e si trasferisce a tutti i proprietari nello specifico caso dell'estimo bisogna calcolare l'indennità di asservimento che è solitamente la somma una somma una tantum da versare al momento della creazione della nascita della servitù passiamo adesso alla ripartizione delle spese di condominio allora la tabella millesimale è lo strumento con cui si stabiliscono le quote di partecipazione alle spese del condominio e i diritti di ogni condomino è importante il concetto di superficie o volume equivalente o superficie virtuale la superficie virtuale si ottiene applicando coefficienti di riduzione per tener conto del fatto che non esistono due unità immobiliari identiche perché anche immobili appartamenti ad esempio nello stesso immobile hanno comunque una posizione diversa anche se di poco una luminosità diversa eccetera quindi si calcono dei coefficienti questi coefficienti di riduzione sono ad esempio il coefficiente di altezza se l'edificio è dotato di ascensore i vantaggi aumentano con l'altezza e viceversa ad esempio se un appartamento è situato al quarto piano con ascensore il coefficiente sarà 1 mentre se è senza ascensore è 0,94 coefficiente di destinazione cioè l'uso dell'unità immobiliare ad esempio un appartamento ha un codice ha un coefficiente 1 un negozio 1,40 perché produce reddito una soffitta 0,40 coefficiente di utilizzazione cioè l'uso dei singoli ambienti ad esempio una camera da letto un soggiorno a coefficiente 1 mentre un ingresso 0,8 poi abbiamo coefficiente di prospetto cioè benefici in relazione all'affaccio ad esempio veduta panoramica 1 locali senza finestre 0,75 coefficiente di orientamento se l'appartamento è orientato a nord 0,9 se è a sud 1,0 tranne magari in qualche specifica parte del sud Italia dove appunto per il fatto che è particolarmente soleggiato essere esposto a sud potrebbe essere uno svantaggio coefficiente di luminosità cioè la quantità di luce che entra negli ambienti quindi moltiplicando tra loro questi coefficienti arriviamo al coefficiente globale che moltiplichiamo per la superficie reale per arrivare ad avere la superficie virtuale su cui calcolare i millesimi di proprietà per quanto riguarda le spese per le scale per gli ascensori vengono ripartite per metà in base ai millesimi di proprietà cioè al valore dell'immobile e per l'altra metà in base ai millesimi d'uso quindi in funzione dell'altezza chiudiamo con le spese di riscaldamento allora abbiamo il criterio della cubatura riscaldata che è il più usato quindi si calcolano gli effettivi metri cubi riscaldati per ciascuna unità poi abbiamo il criterio della superficie radiante cioè in base al numero degli elementi radianti e infine il criterio misto superficie cubatura quindi per metà si usa il criterio della cubatura e per l'altro 50% il criterio della superficie molto bene questo è tutto spero davvero che questi video vi siano utili vi faccio un grande in bocca al lupo per l'esame alla prossima grazie